Questa sarà la più grande storia d'amore mai raccontata. Vuoi tu, Katie? Lo voglio. Sono incinta. Ti amo. Tu non mi stai ascoltando! Non ti va mai bene niente. Va al diavolo! Maledizione! Questo ciclo di intimità e poi di allontanamento, che cosa lo innesca secondo voi? E qualunque cosa succede è colpa mia! Ti vedi con un altro? Vissero per sempre molto felici e contenti. Io lo spero. Io ci credo. Con Michelle Pfeiffer e Bruce Willis. Storia di noi due. Questa sera 21.10 Rai Movie